Questa presentazione vi è trasmessa grazie agli amici del Ministero di Amazing Facts. Al contrario della credenza popolare che i fulmini non colpiscono mai due volte lo stesso posto, si sa in realtà che colpiscono oggetti, persino persone, più volte durante i temporali di forte intensità elettrica. Durante un temporale, per esempio, l'Empire State Building di New York è stato colpito 15 volte in 15 minuti. Qualche volta un solo lampo consiste di 42 scariche elettriche che colpiscono lo stesso punto in una successione talmente veloce che sembra un solo lampo. Ma tutto accade in meno di un quarto di secondo. I lampi, da una nuvola all'altra, sono un fenomeno molto comune e, secondo le registrazioni, riescono a saltare per 20 miglia da una nuvola all'altra. Ma sia che i lampi si muovono da una nuvola all'altra o da una nuvola al terreno o dal terreno a una nuvola, è difficile perdersi il bagliore brillante che illumina il cielo. In Matteo 24 Gesù ha detto come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà l'avvenuta del figlio dell'uomo. Nonostante queste parole, alcuni ancora credono che il suo ritorno avverrà in segreto. Beh, qual è la verità? Unitevi a me, amici, mentre diamo un'occhiata più da vicino a quello che dice davvero la Bibbia sul ritorno di Cristo. La gente sa che sta succedendo qualcosa di insolito. Nel 2010, il Pew Research Group ha condotto una ricerca e in quella ricerca ha spiegato che entro il 2050 circa il 60% della gente crederà nel ritorno di Gesù. Penso che il 40% di quel 60% fosse assolutamente certo, mentre il 20% diceva probabilmente. In America del Nord, ovviamente. Ed ecco perché stasera parleremo dell'apice della profezia e dei segni dell'avvenuta di Gesù. Sapete, è molto interessante. Scopriremo che il libro di Daniele si accompagna al libro dell'Apocalisse. Andremo quindi avanti e indietro. L'Apocalisse fa molti riferimenti al libro di Daniele. Se guardate Daniele, capitolo 12, si dice nel versetto 4, ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Quindi nessun dubbio su quello di cui si sta parlando e continua dicendo molti andranno avanti e indietro. Prima di tutto penso che dovremo andare avanti e indietro nella parola di Dio per scoprire la verità. Ma non potete tralasciare il fatto che la gente andava avanti e indietro più in fretta, vi rendete conto? Per 6.000 anni la gente la cosa più veloce esistente era il cavallo. Non riesco nemmeno a immaginare il cambiamento che c'è stato. Il National Geographic nel 2006, so che è un articolo vecchio, ma c'entra ancora il punto. Questa è la copertina della rivista, se volete riferimenti. C'è una citazione lì. Si viaggia lontano da casa più che mai prima d'ora nella storia dell'uomo e la conoscenza aumenta. Questa immagine, qui sullo schermo, è il grande collisore di Hadroni, il più grosso esperimento al mondo. È la macchina più grande al mondo. È sottoterra, 150 metri sottoterra. Un tunnel di 17 miglia a Ginevra in cui tutti i governi europei si sono riuniti e hanno versato 13 miliardi di dollari per costruire questa attrezzatura sperimentale per capire la fisica. E mentre iperaccelerano, queste particelle le colpiscono e misurano quello che scoprono, cercando di capire qual è la base di cui è fatta la vita. Qual è la materia della vita? Ora, in realtà, in gergo si dice che la macchina sia stata costruita per scoprire quella che chiamano la particella di Dio. Ne avete sentito parlare prima? Dicono, stiamo cercando di trovare le risposte da dove tutto ha avuto origine. È un enorme investimento tecnologico, non solo sottoterra con quello che c'è a Ginevra, ma anche in cielo con la Stazione Spaziale Internazionale. La conoscenza è aumentata nel corso di una sola generazione. Dovrei in realtà dire in un secolo, più o meno, se guardate alcuni dei cambiamenti, le invenzioni incredibili come automobili, aeroplani, radio, televisione, smartphone, computer. Molte persone giovani oggi non riescono nemmeno a immaginare un mondo senza smartphone. E sapete, io e Karen abbiamo preso un'auto a noleggio ed era un'auto abbastanza nuova. Siamo stati fortunati. Pochi chilometri e l'ho quasi distrutta tre volte cercando di capire come farla partire. Mi sono seduto in macchina, quando siamo arrivati ho detto, oh fantastico, pochi chilometri. Sapete, mi sono reso conto alla fine che non dovevo usare una chiave, ma solo schiacciare un bottone perché la chiave era nella mia tasca. E continuavo a pensare dove dovessi mettere la chiave. Sapete, sono una di quelle persone anziane. Voglio mettere la chiave da qualche parte. E ho continuato a tirar fuori la chiave quando arrivavo alla macchina, ma non serviva la chiave, si apriva da sola. Mi sono detto, che spreco di energia, dovevo scoprirlo. Cercavo di capire come cambiare marcia. Stavo guardando tutto questo quando Karen mi ha raggiunto e ha girato un pomello. Era come il volume, si cambiavano le marce con un bottone del volume. Sono un uomo, voglio prendere qualcosa in mano e sentire il rumore, sapete, quando basta solamente girare un pomellino. Quindi mi preoccupa. Le cose sono cambiate. Riuscite a immaginare come cercare di spiegare uno smartphone all'apostolo Paolo? Penserebbe che sei posseduto da un demone. Paolo direbbe, guarda, lascia che lo cerchi nella mia pergamena. Risposta a nessun problema, Paolo, lo cerco su Google. Cosa, non capisci? Le cose sono cambiate. E un'altra cosa che per me è una prova evidente dell'avvicinanza dell'avvenuta di Cristo è l'evangelizzazione globale. Matteo 24, versetto 14. Questa per me è una delle profezie più potenti che mi hanno fatto davvero credere che stiamo vivendo negli ultimi giorni. Gesù ha detto in modo estremamente chiaro e questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti. E poi ha detto e allora verrà la fine. Non ha detto che forse verrà, che potrebbe venire o che magari verrà. Ha detto in modo molto enfatico che verrà la fine. Non ha detto che il Vangelo sarà predicato e ci sarà un grosso risveglio globale e che tutti crederanno. Ha detto in testimonianza. Diamo loro un'opportunità. E poi quello che faranno con questa opportunità dipenderà da loro. Ma la fine verrà. Beh, il Vangelo è diffuso in tutto il mondo? In questi ultimi due giorni solamente ho ricevuto un invito per tornare in Cina. Amazing Facts è stato molto benedetto. Siamo stati una delle prime, se non la prima, organizzazione cristiana in più di 50 anni a essere invitati a predicare pubblicamente un'intera serie di incontri che è stata trasmessa in TV in Cina. Ed è stata una cosa così esaltante. E poi la cosa bella è che hanno fatto delle copie e continuano a moltiplicarle. Ho ricevuto una telefonata dai nostri quartieri generali là e mi hanno detto puoi tornare? E quindi il Vangelo è ora sul satellite. Karen e io andremo il mese prossimo in Nuova Guinea e ci hanno detto che ci saranno circa 100.000 persone a questo incontro a cui parteciperemo in Nuova Guinea. Andremo in Australia. E sono solo uno delle migliaia di missionari che lo fa. Non è come se lo stessimo facendo. Gesù ha detto che il Vangelo si sarebbe diffuso in tutto il mondo. Si sta diffondendo nel Medio Oriente. Amazing Facts riceve email da tutte quelle persone in Medio Oriente che lo guardano online. Quindi le persone cercano. Il Vangelo si diffonde. E lo stesso i missionari. Gesù ha detto verrà la fine. E quindi stiamo vedendo, penso, il compimento in questa generazione. Ora devo fermarmi a questo punto e scavare in una parte molto importante del nostro studio. Ho parlato dei segni della venuta di Cristo. Ora voglio parlare di come verrà. Di cosa? Di come. Come verrà. Perché c'è molta confusione al riguardo. Ora ci saranno molte persone in cielo che hanno sbagliato a capire come sarebbe venuto. Gli apostoli si sono sbagliati su come il Messia sarebbe venuto la prima volta? Saranno in cielo ma hanno sbagliato a capire le scritture. Pensavano che quando sarebbe arrivato il Messia sarebbe venuto su un cavallo bianco come il re Davide. E avrebbe distrutto tutti i romani come Sansone o una cosa del genere. E che ci sarebbe stato un impero mondiale come Salomone. E avevano tutte queste idee grandiosi, gloriose su come sarebbe venuto il Messia. E Gesù ha detto loro no. Quello è quando verrò la seconda volta. La prima volta verrò come un agnellino. La seconda volta come un leone. Beh, il diavolo sta facendo la stessa cosa con la chiesa di oggi. Molte persone devote sono confuse su come verrà e così non saranno pronti a riceverlo. Molte persone del popolo di Cristo, gli ebrei, non lo hanno accolto quando è venuto la prima volta perché hanno detto... Nazareth? Chi? Non c'è nessun profeta a Nazareth. Solo un povero carpintiere. Com'è possibile? Non può essere lui. Hanno sbagliato a capire che veniva prima come un sacrificio. Beh, ora ci sono molti equivoci. Ci sono principalmente tre visioni. Quando si legge l'Apocalisse, c'è un gruppo chiamato preterista. E pensate alla parola pre. Credono che tutta l'Apocalisse si sia realizzata entro il 100 d.C. Pensano che Nerone fosse l'anticristo e che sia tutto alle nostre spalle. Gente buona. Io con rispetto non sono d'accordo. Poi ci sono i futuristi. I futuristi sono quelli che hanno reso popolare la versione, lo scenario di quelli che sono stati lasciati indietro. Gran parte dell'Apocalisse, capitolo 4, quando Giovanni dice ho udito una voce, una tromba, sia tutto nel futuro. Poi ci sono quelli, tra cui ci sono anche io, che si chiamano storicisti. Sono in buona compagnia e la cosiddetta vecchia versione. Non è popolare come lo era, ma è quella in cui credevano i riformatori protestanti, cioè che l'Apocalisse copre un panorama storico, dalla prima alla seconda venuta. E si può ripercorrere la storia della Chiesa e del popolo di Dio seguendo quell'orizzonte. Ora, vi dico che ci sono due visioni principali, la visione futurista, non ci sono così tanti preteristi, e la visione storica. La visione futurista è piuttosto nuova come visione. È diventata famosa con il libro di Hal Lindsey. Non so se ricordate un libro intitolato The Late Great Planet Earth. E in quel libro prediceva che siccome Israele era stato stabilito come stato nel 1948, nel 1981 un rapimento segreto avrebbe avuto luogo. Nel 1988, sette anni dopo, sette anni di prove, sarebbe venuto Gesù. E nulla di questo è accaduto. Sta ancora vendendo libri. Ma è comunque diventato molto famoso. Io faccio parte del gruppo che crede che la prova verrà prima dell'avvenuta di Gesù. L'altro gruppo crede che saremo rapiti prima della prova. Vorrei crederci, ma non penso che sia quello che insegna la Bibbia. E vogliamo sapere. Vi darò qui dei riferimenti biblici. Se non siete d'accordo con me, allora possiamo comunque continuare a volerci bene e rispettarci a vicenda. Ma dovete a voi stessi almeno di capire i fratelli e le sorelle che la pensano in modo diverso. Amen? Possiamo non essere d'accordo e ancora essere in armonia, vero? Gesù verrà in silenzio. Leggiamo cosa dice la Bibbia. Primo Tessalonicesi 4,16. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e ci dice quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Una tromba. Leggete in Geremia 25,30. L'Eterno rugirà dall'alto e farà sentire la sua voce dalla sua santa dimora. Egli rugirà con forza contro il suo ovile. Manderà un grido. L'avvenuta di Gesù è un evento rumoroso. Leggete in Salmi 50. Forse questo è l'unico piuttosto convincente. Dice qui, il nostro Dio verrà e non se ne starà in silenzio. E intorno a lui ci sarà una grande tempesta. Un grande evento climatico. E qualcuno potrebbe pensare, beh, pastore Doug, la Bibbia dice che verrà come un ladro. Non vuol dire che verrà in silenzio? Non penso. Potete leggere nella Bibbia, dove si dice in secondo Pietro capitolo 3, ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo. Cosa succede nel giorno in cui viene come un ladro? Notate. I cieli passeranno stridendo. Di nuovo si parla di rumore. Gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quindi, quando Gesù verrà come un ladro, vi sembra che la vita continuerà sulla terra? Verrà come un ladro. Questo vuol dire che sarà una sorpresa. Ora, non so cosa dirvi, ma non sono sempre stato cristiano. Era un ladro. Entravo nelle case e rubavo. Proprio qui in Florida, in realtà vivevo nel sud della Florida. Non nel vostro quartiere, quindi non vi devo nulla, ma non ho mai mandato un annuncio dicendo verrò, volevo solo dirvelo. Era una sorpresa. Ecco cosa sta dicendo Gesù. Sorprenderà la gente, ma quando verrà, lo sapranno. Ora, chi vedrà Cristo quando tornerà? Sarà solo un gruppo selezionato che scomparirà. E sentite cosa dice. Posso darvi vari versetti qui. Matteo 24,30. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio. E vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Lo vedranno venire con potenza e grande gloria. Vuol dire con il massimo splendore. Di nuovo Apocalisse 1,7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Chi sarà con Gesù quando tornerà? Non verrà da solo. La Bibbia dice che quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, nello splendore, con quanti? Tutti i suoi santi angeli. Beh, quanti angeli ci sono? Pensiamoci un attimo. Gran parte di noi ha un angelo custode. La Bibbia dice che Gesù ha detto, parlando dei bambini, che i loro angeli contemplano il volto di suo padre, intendendo dire che hanno un angelo che vigila su di loro. Sette miliardi di persone al mondo. Gli angeli di Dio non solo vigilano sulle persone, hanno un ministero spirituale, sono l'esercito di Dio, sono chiamati gli ospiti celesti, creature molto reali con personalità individuali. Miliardi. Ora, un angelo è venuto da Dio. Lo leggete nell'Antico Testamento, nei giorni del re Ezechia, l'angelo del Signore passò nell'esercito della Siria. Un angelo ammazzò 185.000 soldati nemici in un giorno. Gli angeli che facevano la guardia sulla tomba di Gesù, scusate, quando l'angelo è arrivato alla tomba di Gesù alla risurrezione, i soldati romani che stavano facendo la guardia alla tomba furono così spaventati dalla gloria di quell'angelo che scese e fece rotolare la pietra che caddero come morti. Un angelo. Riuscite a immaginare il cielo pieno del brillio di miliardi di angeli. Non dice che ne lascerà qualcuno a casa, dice tutti gli angeli. Tutti gli angeli sono stati coinvolti nella nostra salvezza, saranno molto interessati alla nostra redenzione e vedrete che avranno un ruolo nella nostra raccolta, per così dire. Cosa farà lo splendore della gloria dell'avvenuta di Gesù e di tutti quegli angeli a quelli che non sono pronti? Quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio. E di nuovo era secondo Tessalonicesi capitolo 1, versetti 7 e 8. Potete leggere in secondo Tessalonicesi 2 e 8. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. Gli empi saranno distrutti dallo splendore della sua venuta. Vi è mai successo di essere nei campi in un bel giorno di sole per curiosità, di prendere una pietra, girarla e vedere quegli animaletti striscianti che corrono a cercare l'oscurità. Di notte potete illuminare qualcosa nel bosco e tutte le falene arrivano alla luce. Ci sono due tipi di insetti. Ci sono gli insetti come gli scarafaggi che scappano dalla luce e ci sono le falene e le farfalle che amano la luce. E ci sono due tipi di persone quando verrà Gesù. Ci saranno gli scarafaggi e le farfalle. E quindi, davvero, se non abbiamo il Signore nella vita saremo terrorizzati dalla sua venuta. Ma se amiamo il Signore, la Bibbia chiama la sua venuta la speranza beata. Ma se avete vissuto una vita di egoismo e peccato, vi spaventerà e così dovrà essere. Dio vuole che abbiate pace, ma non vuole che abbiate pace se siete sulla via della distruzione. Vuole che abbiate guai fino a che non vi pentite e tornate da Lui. Lo splendore della sua venuta li distruggerà. Quindi cosa succederà ai giusti che sono morti alla venuta di Gesù? Prima inizieremo con i giusti che sono morti. leggete che i morti in Cristo risusciteranno per primi. È quello che leggiamo in primo Tessalonicesi capitolo 4. Il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio. Qualcuno una volta ha detto che è il versetto più rumoroso della Bibbia e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Vi sembra ancora un segreto? A questo punto cosa succede a coloro che saranno vivi e ai santi risorti quando verrà il Signore. I viventi e ai santi risuscitati, dovrei dire. Quindi ci sono i morti in Cristo che risusciteranno. Alcuni di noi sperano di essere vivi quando verrà Gesù. Vorrei se potessi evitare la morte. Woody Allen una volta ha detto, non ho paura della morte, solo non voglio essere presente quando viene. Quindi molti di noi sono precablati da Dio e vorrebbero essere vivi, giusto? Quindi cosa succederà a coloro che sono vivi? Si dice che in un batter d'occhio i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Si dice che in un momento questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità. Corruttibile significa il nostro corpo, sapete invecchiamo, decadiamo, moriamo. Avremo questi corpi gloriosi, come quelli di Adamo ed Eva prima del peccato, prima che la luce se ne andasse. Bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Poi noi viventi che saremo rimasti e saremo rapiti assieme. In che direzione andremo? In alto. Qui è quando si parla del rapimento. Saremo portati in alto o rapiti in alto a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Quindi i piedi di Gesù non toccheranno la terra quando verrà la seconda volta, lo incontreremo. E Cristo ha detto che succederà così. Ha detto vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. Quando saremo rapiti, affinché dove sono io, dove ci porta? Di nuovo in cielo. Siate anche voi, giusto? Abbiamo letto che la venuta del Signore sarà letterale, personale, visibile, udibile, fisica, vitale, rivitalizzante, gloriosa, climatica. Ci sarà un terremoto. Ogni senso del nostro essere saprà quando viene Gesù. Non manderete un sms a qualcuno dicendo hai visto? Visto cosa? Gesù è venuto ieri con tutti gli angeli, vero? Me lo sono perso. Ho notato che alcuni aerei cadevano e le macchine uscivano di strada, ma ci sono stati un paio di colpi mentre dormivo e mi sono svegliato. Pensavo fosse mia moglie, ma ora è finito tutto. Sì, forse sto ridicolizzando la cosa, ma non voglio essere scortese. Ma per me davvero conosco persone che pensano, beh, se non sono pronto quando viene Gesù, non è un grosso problema. Se mia moglie è cristiana, crede, se scompare, allora la prendo sul serio. Forse dovrò superare qualche prova, ma allora saprò che è vero. Rimarreste sorpresi da quante persone pensano di avere una seconda opportunità. Ecco perché è una cosa molto pericolosa non capire come verrà. Un altro motivo è perché il diavolo impersonerà varie persone. Quale avvertimento solenne ci dà Gesù sulla seconda venuta? Se iniziate a leggere Matteo 24, la prima cosa che dice è di stare attenti che nessuno vi seduca. Lo ripete varie volte, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. E ricordo di aver battezzato una giovane donna che stava a Jonestown con Jim Jones. Era scappata poco prima che le cose andassero oltre e raccontava storie orribili. Aveva iniziato come predicatore metodista, una buona chiesa, predicando dalla Bibbia, ma poi era diventato un falso profeta. Alla fine, capite, diceva di essere Cristo. Gesù ha detto, sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli. I miracoli, i segni e le meraviglie, sono una prova di chi è reale e chi non lo è? Il diavolo può fare miracoli? Sì, può. Ne parleremo ancora. E lo faranno tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. In altre parole, dovete sapere cosa dice la Bibbia, perché il diavolo compirà seduzioni potenti negli ultimi giorni. Alcuni di noi ricorderanno la setta dell'Eventsgate, la porta del paradiso. Marshall Applewhite. 39 persone credettero a questo povero uomo pazzoide che diceva di essere la reincarnazione di Cristo e che dovevano suicidarsi per salire su una navicella spaziale che si trovava dietro la cometa Hale-Bopp. La cometa Hale-Bopp. E presero questo cocktail mortale. 39 persone si suicidarono. E diceva che Dio stava mandando messaggi attraverso Star Trek. Forse ci sarà anche un Dio che mandava messaggi, ma non era certo Gesù. Che cosa servirà ai giusti per evitare di essere seduti negli ultimi giorni? Isaia 8,20. Ecco perché vogliamo che conosciate la Bibbia. Spero che controllerete tutto quello che dico. Potete prendere appunti. La Bibbia dice, attenetevi alla legge e alla testimonianza. È il modo in cui la Bibbia si riferisce alla Bibbia, la legge e i profeti. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. Si misura tutto con le scritture che bisogna conoscere. Gesù ha detto, cercate e troverete. Amen. Che cosa diranno gli empi quando tornerà Gesù? E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero, parla dei perduti, si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce, cadetici addosso e nascondetici dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Vi ho detto ancora una volta due tipi di persone, quelli che conoscono Cristo e che ce l'hanno nel cuore. Ci sono quelli che gli hanno resistito e che sono diventati i suoi nemici. O avrete l'amore di Dio o l'ira dell'agnello. Io voglio che egli venga come mio signore e mio salvatore, non come mio avversario. Amen. Qual è la ragione principale per la seconda venuta di Gesù? Verrà a prendere i perduti? No, viene a redimere i suoi. Giovanni 14,3. Ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Affinché dove sono io siate anche voi. L'Apocalisse dice che Dio stesso sarà con noi, vedremo il suo volto. Potete immaginarlo. Ora infatti vediamo in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Primo Corinzi 13. Che privilegio poter vedere Dio faccia a faccia. Sapete amici, Dio ci sta dando dei segni lungo il cammino e voglio che sappiate che ci saranno giorni difficili all'orizzonte. Credo che ci sarà una tribolazione, credo che stia venendo il Signore, credo che saremo rapiti, ma credo che ci sarà un tempo di tribolazione prima del rapimento. È vero, Dio salva il suo popolo dalla prova o mediante la prova? Mediante. Dio ha salvato Noè dal diluvio o l'ha salvato mediante la tempesta? Mediante la tempesta. Dio ha salvato Giuseppe dalle sue prove o mediante? Cosa mi dite di Giobbe? È stato salvato dalla prova o mediante la prova? Paolo non dice che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio? Dio viene per una chiesa senza macchia o piega o cose del genere. Si tolgono le macchie e le pieghe con il ferro caldo e l'acqua calda. Quindi l'idea che la chiesa non debba passare attraverso nessun tipo di purificazione o pulizia prima, quando una chiesa brilla al meglio, alla luce o nel buio. Ci sarà un periodo di grande oscurità. Gesù ha detto che a mezzanotte fu lanciato il grido. Ecco arriva lo sposo e ci saranno dei giorni difficili all'orizzonte. Io non me ne preoccupo. Sapete perché? Dio ha detto che se hai fatto dell'altissimo il tuo riparo, non devi temere. Ci sta dando dei segni. E alcuni cristiani stanno perdendo la speranza, proprio qui sull'orlo dei più grandi eventi della storia. Sapete, io amo la storia. Ricordo di aver letto di Cristoforo Colombo quando attraversava l'oceano. Sapete, quando è partito diceva scopriremo un nuovo passaggio. Nessuno degli esploratori del Portogallo o della Spagna erano mai andati così lontano nell'Atlantico, perché erano giunte le loro voci che se si voleva fare il giro della Terra c'erano draghi e tante storie spaventose. E lui aveva detto, navigheremo verso ovest fino a trovare il nostro obiettivo. E sapete, dopo due mesi, agosto e settembre, i marinai erano pronti ad ammutinarsi. E Colombo, se leggete il suo diario, pregava moltissimo. Credeva di essere in ricerca per Dio. Alla fine disse ai marinai, datemi ancora tre giorni, se non troveremo la Terra torneremo indietro. Potete immaginare cosa c'era in palio? Ma man mano che passavano i giorni iniziarono a vedere segni. Canoe rovesciate che passavano. Vedevano cocchi galleggiare, pezzi di alberi. L'acqua iniziava a cambiare colore e la salinità dell'acqua era diversa. Notarono mentre navigavano che il fondo era più basso. Arrivavano canti di uccelli. Non riuscivano a vedere la Terra, ma vedevano i segni che indicavano una costa vicina. E i segni li incoraggiavano ad andare avanti. Alla fine, al termine del terzo giorno, di notte, videro un fuoco da lontano. La mattina dopo, videro la Terra, San Salvador. Beh, amici, noi vediamo i segni. Gesù sta per venire. Voglio essere pronto. E voi? Grazie a tutti.